Siracusa misure anti-Covid stretta su assembramenti e elevate sanzioni. A seguito del recente Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica tenutasi in Prefettura, la questore di Siracusa, dopo aver registrato un sensibile aumento dei contagi in provincia e nel capoluogo, ha inaspirito i controlli sul rispetto delle normative anti-Covid, constatando un disinvolto comportamento da parte di alcuni utenti nell'utilizzo delle precauzioni e delle direttive finalizzate al contenimento della pandemia. Sono stati pattugliati alcuni luoghi della città, ovvero maggiormente è stata riscontrata la presenza di giovani e di persone che, riunendosi, creano assembramenti severamente vietati dall'attuale normativa che contrasta all'espandersi della pandemia. Gli uomini delle volanti hanno riscontrato la presenza di gruppi di persone in Via Santi Amato, Nota Piazza dello Sparcia, in Piazza Santa Lucia e in Piazza Adda. Sono state levante nel complesso una decina di sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. In particolare è stato notato un uso improprio dei dispositivi di protezione personale e un mancato rispetto del distanziamento sociale. I controlli mirati al contenimento sanitario hanno anche consentito di denunciare e sanzionare persone che commettevano altre infrazioni come la guida senza patento o il porto illecito di oggetti atti ad offendere. Si sono svolti con le medesime modalità in tutta la provincia dove sono state sanzionate alcune persone per il mancato rispetto delle norme. In particolare a Lentini gli agenti del commissionariato hanno denunciato un uomo di 35 anni trovato in possesso di un coltello e lo hanno sanzionato per il mancato rispetto della regola anti-Covid. A Pacchino gli agenti intervenuti per una lite in strada hanno denunciato due persone per porto di oggetti atti ad offendere. li hanno sanzionati perché si sono spostati dal comune di Siracusa cioè cassibile a quello di Pacchino violando la normativa anti-Covid. I controlli e le relative sanzioni afferma il nuovo vicario del questore Francesco Marino hanno la precipua finalità di preservare la salute pubblica attesa un preoccupante innalzamento della curva pandemica nella nostra zona e continueranno nei prossimi giorni operando una pressione su coloro che ancora non intendono rispettare le regole anti-contagio. Inoltre gli agenti del commissionariato di Aula hanno denunciato per furto a Gramato un uomo di 47 anni avulese già conosciuto alle forze di polizia. Poco prima dell'intervento dei poliziotte l'uomo all'interno di un supermercato incontrato a Merlino sottraeva vari prodotti alimentari nascondendoli sotto il giubbotto eludendo il controllo dei cassieri del supermercato che tuttavia notato il riconfiamento innaturale della sagoma dell'uomo intuivano che lo stesso stava occultando alcuni prodotti. Una volta individuato l'uomo nel parcheggio riservato ai clienti il personale del supermercato richiedeva l'intervento della polizia che giungeva tempestivamente e bloccava il soggetto che nel frattempo si era allontanato. I prodotti oggetto di furto venivano restituiti al direttore del supermercato. Infine a Pachino gli agenti del commissionato hanno denunciato un cittadino tunisino perché resosi responsabile di furto su autovettura e possesso ingiustificato di coltello nonché della violazione del decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio italiano notificato lì in aprile. Terminati gli atti di rito e di concerto con l'ufficio immigrazione della questura all'uomo veniva notificato un nuovo ordine di espulsione con l'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Inoltre agenti del commissionato hanno denunciato un uomo di 47 anni accusato di aver ceduto a terzi un veicolo sequestrato e ad egli affidato in custodia.